Negli istituti comprensivi Ricciardi di Monte Falcone, Nelsagno, Difesa Grande e Bernacchia di Termoli si è concluso il meraviglioso tour itinerante dedicato al concorso Il mio eroe sei tu della presidenza del Consiglio regionale del Molise una settimana intensa ricca di emozioni e soddisfazioni in 11 scuole diverse con momenti di grande gioia che solo i bambini sanno regalare e trasmettere come più volte ribadito in questi mesi le parole del Presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone i veri eroi di questa pandemia sono i bambini e ragazzi che hanno saputo repentinamente imparare e convivere con nuove regole e comportamenti e che ora finalmente vedono vicino il ritorno alla normalità Sì abbiamo ideato insieme all'ufficio scolastico regionale questo concorso premio con le scuole nell'ambito degli eventi degli ambasciatori del Molise nel mondo l'anno scorso abbiamo premiato come ambasciatore del Molise la professoressa Colavita la dottoressa che presso lo Spallanzani come sappiamo benissimo si è adoperata insieme a un team nella ricerca contro il genoma isolato il genoma del Covid abbiamo abbinato questo concorso in modo tale che i ragazzi potessero raggiungere attraverso i loro occhi e le loro mani tanti eroi di questa pandemia ed ecco perché il titolo del concorso il mio eroe sei tu tanti eroi, diverse categorie, diverse personalità tante professionalità, quindi tante eccellenze molisane in questo tour di 11 scuole che hanno partecipato al concorso in altrettanti centri del Molise tante emozioni, tutte forti perché poi i bambini sono bravi a regalartene e quindi una bella esperienza il mio eroe sei tu il mio eroe sei tu il mio eroe sei tu perché per lahouse non è bene 難i è pot achterla Grazie.